Il D-Book Giunti TVP è un libro integrato con il catalogo dei contenuti digitali, un vero e proprio libro guida per creare la tua lezione interattiva. Una volta aperto il tuo libro, seleziona il pulsante con il simbolo del cubo. In un pannello sono ora a tua disposizione, organizzati secondo categorie, i contenuti utili a rendere interattiva la lezione sui temi delle pagine che stai visualizzando. Stiamo ad esempio consultando le pagine introduttive alle civiltà fluviali nel vicino Oriente Antico in un volume di storia. I contenuti digitali sono realmente correlati a detti temi. Proseguo la mia lettura e arrivo a parlare delle civiltà in Mesopotamia. Nel mio pannello ecco a mia disposizione i contenuti digitali corrispondenti. Potrò ora dunque parlare dello standardo di UR e accedere alla versione interattiva di questa fonte visiva ed esplorarla assieme ai ragazzi. Oppure, con lo stesso criterio, aprire una verifica o la sintesi audio di questa parte del volume. Il pannello dei contenuti sarà sempre il tuo riferimento per sapere quali e quanti contenuti digitali sono a tua disposizione su un determinato tema disciplinare. Grazie. 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 Grazie.